La cabina di regia nazionale oggi pomeriggio ha confermato la zona arancione per il territorio regionale ma come sapete ci sono dei comuni e anche delle vaste aree dove insistono restrizioni una di queste è l'area metropolitana Chieti-Pescara ebbene da quanto emerso dal lungo vertice di questo pomeriggio della task force regionale per l'emergenza sanitaria da lunedì ci saranno meno restrizioni proprio nell'area metropolitana Chieti-Pescara ad eccezione dei comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo sentiamo Anna Di Giorgio è durata quasi tre ore la riunione della task force per l'emergenza sanitaria in regione Abruzzo che si è svolta a partire dalle 15 di oggi proprio presso la sede dell'assessorato regionale alla sanità qui a Pescara in via Conte di Ruvo sede dell'assessorato che vedete in questo momento anche alle mie spalle inquadrata dalla telecamera di Andrea Berardinelli al termine di questa riunione il dato più importante emerso è che l'area metropolitana di Pescara Chieti torna in zona arancione ad eccezione dei comuni di Città Sant'Angelo e di Montesilvano che restano comunque sorvegliati speciali ma sentiamo le parole del presidente Marco Marsilio proprio al termine di questa riunione con tutte le specifiche del caso l'Abruzzo non solo resta in zona arancione se non ci fosse stato il decreto legge Draghi oggi avremmo registrato il ritorno in zona gialla perché per la seconda settimana consecutiva l'Abruzzo segna un R con T inferiore a 1 questa volta non soltanto nella sua coda inferiore ma nella media del risultato e con un impatto di rischio moderato questo avrebbe significato da lunedì tornare addirittura in giallo sapete che per la virtù del decreto legge Draghi fino a Pasqua la zona gialla è abolita e quindi resteremo in arancione abbiamo quindi esaminato tutte le diverse province dentro le province e le diverse zone comune per comune per individuare quali comuni hanno delle incidenze superiori a 250 su 100.000 abitanti per settimana che è la misura sulla quale vengono consigliate fortemente consigliate misure restrittive il dato è che nessuna provincia ha la misura di 250 in generale all'interno delle province abbiamo individuato quei comuni che hanno particolari necessità di restrizioni e l'area metropolitana di Chieti Pescara finalmente dopo un mese di sofferenza questo indice è sceso e quindi da lunedì potranno tornare in una disciplina della zona arancione possono riaprire i negozi questo vale per tutta l'area metropolitana ad esclusione di città Sant'Angelo e Montesilvano cioè la zona nord purtroppo ancora ha questa incidenza che soprattutto la provincia dell'Aquila oggi è quella che sta mostrando maggiore preoccupazione in prospettiva perché ha l'R con T più alto in Abruzzo come provincia quindi ci sono alcune città importanti in cui c'è una circolazione diffusa abbastanza sostenuta e quindi è stato opportuno per diversi comuni soprattutto quelli più grandi e che fanno numeri più importanti adottare misure restrittive e anche precauzionali questa settimana abbiamo avuto 600 contagi in meno rispetto alla settimana precedente abbiamo 2000 attualmente positivi in meno rispetto alla settimana precedente quindi ci sono dei numeri complessivi che scendono l'unico numero che continua a non scendere è quello degli ospedalizzati delle occupazioni dei posti letto e delle terapie intensive che sono scese di pochissimo in questa settimana mentre il numero complessivo dei malati non è sceso anzi dei posti letto occupati non è sceso anzi è anche leggermente aumentato però l'andamento epidemiologico e tutti questi dati ci fanno presupporre che inizierà la discesa che nella prossima settimana inizieranno a scendere anche il numero dei posti letto occupati e a proposito dei dati veniamo proprio al bollettino di oggi sulla diffusione del covid in abruzzo rispetto a ieri si registrano 417 nuovi casi su 6.557 tamponi tra molecolari e test antigenici la percentuale positivi su tamponi è dunque pari al 6,3 il bilancio dei pazienti deceduti registra 29 nuovi casi e sale così a 1.972 anche se dal totale odierno 23 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL per quel che riguarda invece la pressione ospedaliera 672 pazienti più 5 rispetto a ieri sono ricoverati in terapia non intensiva 88 meno 1 ma con 7 nuovi ricoveri in terapia intensiva mentre gli altri 10.203 meno 143 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL ciò significa che gli attualmente positivi in abruzzo sono quasi 11.000 per la precisione 10.963 infine i guariti rispetto a ieri sono 526 526 627 829 830 829 1129 929